l'ultima delle ultime azioni nostre calcio di rigore adesso è calcio di rigore calcio di rigore sempre su teidi caparbiamente il moto caparbio è andato su tutti i palloni in calcio di rigore oh freddezza ragazzi sul pallone teidi teidi mata sul pallone la rabbia di un guerriero rete 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 pareggio pareggio rete di teidi mata sul calcio di rigore rete rete uno pari proprio ai sgoccioli dell'incontro grazie